Se n'è andata una maestra dello spettacolo, della televisione, di tutto quello che è l'intrattenimento a 360 gradi. Io mi ricordo una cosa che mi porterò per sempre nel cuore, è una frase che disse lei, mi disse, ricordati una cosa Stefano, bisogna avere coraggio di avere paura prima di ogni spettacolo e penso che sia una frase che tutte le volte che vado in scena mi ribatte nel cervello. Quindi, beh, che dire, un abbraccio grandissimo e Raffaella vai a fare spettacolo lassù insieme agli altri grandi come te. Ciao!